Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Bitcoin ha chiuso il mese di giugno, iniziamo il mese di luglio, ma anche il terzo trimestre dell'anno. Andiamo a fare quindi il punto della situazione su tutto quello che è successo a giugno, qual è la price action che il mercato ha disegnato per il mese di giugno e poi andremo anche a cercare di rispondere alla domanda cosa aspettarci per il mese di luglio, quali sono i livelli chiave del mercato e poi ovviamente li analizziamo perché Bitcoin è in rea a specchio tutto quello che succede su Bitcoin verrà riversato sulle altre cripto, soprattutto ITER ad esempio, ma anche le altre criptovalute, quindi potremmo avere anche dei cambiamenti nella struttura delle cripto più piccoline, analizzeremo anche questo nei prossimi video perché ho delle idee in testa e poi alla fine del video ragazzi volevo anche farvi vedere un livello di strategia buy the dip che secondo me potrebbe essere preso in considerazione un'area di prezzo che potremmo prendere in considerazione per un buy the dip, un acquisto sulle fasi di bassiste per il mese di luglio. Ma prima di andare avanti ragazzi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi i pollicioni perché con i mi piace ragazzi mi aiutate e intanto costo caldo perché non se ne può più, quindi io sono qua a registrare quindi su con i mi piace ma poi mi aiutate con l'algoritmo di YouTube. Maggio è un'altra novità ragazzi, un'altra novità perché da un po' di tempo sto pensando di aprire anche Trading On, il progetto, a quella che sono altri tipi di social, piattaforme social, non solo YouTube, sono stato YouTube more friendly, diciamo così, quindi quasi top 100 su YouTube perché lo ritengo uno strumento stra importantissimo però con l'aiuto anche del team di Trading On si è aperto anche un'altra struttura di canali social tra cui quello di Instagram ragazzi. Allora c'è già il mio Instagram personale che sto iniziando a riempire ed è mauro.caimi quindi potete aggiungermi anche a livello di persona, quindi il mio Instagram personale però abbiamo aperto anche quello della pagina Trading On perché è lì che andremo a condividere una serie di informazioni, di tips sulle criptovalute quindi sarà veramente 100% cripto focus e poi andremo anche a parlare di alcune analisi, quelle più veloci, per esempio un commento di una news o un'analisi che mi viene in mente ragazzi, qualsiasi cosa che potrò condividervi in alcune storie e alla fine anche dei giveaway che stiamo preparando con il team. Allora vi lascio quello che è il link di Instagram Trading On at tradingon.it iscrivetevi alla pagina Trading On che a un solo post c'è io, la prima fase quindi sarete i primi ragazzi perché ho idea anche di chi si iscrive tra i primi di fare questo giveaway lo stiamo organizzando la prima volta, lo so fare benissimo quindi lasciatevi un po' di tempo a comprendere questi nuovi strumenti e bom ragazzi ok? Siamo arrivati anche su Instagram, vi aspetto anche lì. Allora andiamo avanti per quanto riguarda la questione del video di oggi ragazzi allora analizziamo come prima cosa il grafico mensile di Bitcoin poi ci spostiamo all'analisi del trimestrale, i livelli e poi andremo a guardare il nostro consiglio del buy the dip come vi dicevo all'inizio del video. Allora per quanto riguarda la struttura dell'analisi allora intanto ragazzi lo so che state vedendo una precedente analisi di un mio precedente video dove nel medio lungo periodo indicavo dei livelli di ingresso per investitori quindi i cosiddetti holders non per chi voleva posizionarsi in un certo modo però questi sono sempre validi però erano precedenti, erano un'altra analisi non li voglio cancellare perché li voglio lasciare su questo grafico di Coinbase allora andiamo a vedere quella che è la price action del mercato in questione a livello di mese a livello di mese abbiamo avuto una candela nel mese di aprile che è andata a creare un swing point high cioè un massimo abbastanza rilevante ragazzi quello famoso poi a 65.000 dollari circa da lì poi la candela di maggio ha breccato il minimo del mese precedente ha fatto una candela di minimo aggiornato nella giornata, nella mese di giugno allora questo minimo che è inferiore al precedente per esempio su Coinbase in questo caso in alcuni exchange questi minimi sono un po' più vicini in altri un po' più lontani quindi non è un problema questa cosa in questo momento ci interessa la struttura della price action questa candela è una candela abbastanza buona perché è una candela che può andare a indicare che una struttura di minimo può essere stata raggiunta quantomeno nel ciclo di medio periodo per quanto riguarda il mercato crypto e in questo caso Bitcoin però non è detto che questo minimo ottenga nel mese di luglio quindi se io anche analizzassi questo livello di giugno la candela in sé è una buona candela perché ci dà anche un'ottima indicazione sul fatto che il mercato possa continuare a una fase di riflessione, di ripresa quindi senza aggiornare i nuovi minimi però probabilmente nella prima parte del mese di luglio quindi in questi primi giorni il mercato deciderà se il minimo che abbiamo fatto a giugno sarà sufficiente questo minimo è a 28,8 ha toccato in pratica il famosissimo supporto a 28,5 perché siamo lì ragazzi in un'area di supporto che è fondamentale la cui tenuta è veramente importantissima e può veramente innescare dei livelli di ripresa del mercato cripto nei prossimi mesi però questa situazione di questo minimo potrebbe essere temporanea oppure il mercato insomma nel mese di luglio potrebbe tentare di aggiornarlo ma senza averne la forza in pratica quello che vi sto dicendo è che nella prima parte di luglio il mercato potrebbe tendere a continuare questa sua struttura discendente di trend che comunque la vedete perché le candele sono ancora rossa rossa questa sta cercando di fare una rossa però potrebbe essere anche un mese nel quale andiamo in pratica a tentare di fare un nuovo minimo ma senza riuscirci considerate che i due mesi precedenti il mercato ha fatto minimi ribassisti questo è sintomo di trend a ribassi è anche vero che i minimi sono stati molto vicini quindi più che dire trend molto ribassista potremmo dire trend laterale ribassista però non si è avuto un mese con un minimo superiore al precedente l'UIO potrebbe essere un mese di questo tipo quindi dopo un tentativo che il mercato potrebbe fare di scendere a ritestare i minimi del mese di giugno questo tentativo io penso che il mercato in questo caso possa fallirlo questo significa che una fase ribassista nella prima decada di luglio potrebbe essere utilizzata appunto per un buy the dip leggero e ovviamente iper speculativo questo lo dico perché molti magari pensano che sia il buy the dip della vita no ragazzi ok stiamo parlando di un'operazione che ha la funzione di entrare nel mese di luglio e uscire nel mese di luglio e non do così finanziare non lo sapete quindi mi raccomando fate attenzione non è un'operazione hold è un'operazione di posizionamento per il mese se poi volete magari se tutto va benissimo il mese di luglio va su di nuovo agosto continua volete tenere in hold potete fare quello che volete però l'idea di questa operazione è fino alla fine del mese quindi da un punto di vista di price action il mese di luglio potrebbe essere un mese di inside alla candela di giugno candela di giugno che è stata discretamente grande ma non grandissima perché siamo andati da 41 a 28 e 8 probabilmente la candela di giugno potrebbe essere un inside di questa candela quindi strutturarsi in questo modo mi aspetto una candela con una volatilità quindi con un movimento per quanto riguarda luglio non molto pronunciato vi farò un video l'ho già preparato ragazzi e ne parleremo un video dove analizzeremo come operare come guadagnare nei prossimi mesi quegli estivi quando saremo in vacanza perché c'è una struttura storica di movimento dei prezzi bitcoin che secondo me può essere sfruttato quindi il prossimo video sarà questo ed è epichissimo ragazzi mi piace tantissimo in questo momento quindi i livelli chiave da tenere a mente per il mese di luglio da un punto di vista di candela mensile sono circa 31,532 questa zona qui e poi nella parte alta ovviamente una struttura intorno ai 39.000 io direi che questo tipo di oscillazione potrebbe essere l'oscillazione del mese di luglio 2021 quindi possiamo organizzare una strategia e un buy the dip proprio in quest'area adesso lo vedremo comunque con più precisione spostiamoci anche su quello che è il grafico trimestrale poi andremo a vedere anche a livello settimanale il grafico per essere un pochettino con un focus più breve a livello trimestrale la struttura del mercato non è bellissima e infatti ne avevo già parlato da questo punto di vista le possibilità che da qui in poi si risalga dipendono soprattutto da come si comporterà il mercato nei prossimi due mesi quindi luglio e agosto anche poi il mese di settembre concluderà questa candela trimestrale ok tutto quello è sicuramente così però non ha molta importanza perché andrà a chiudere probabilmente l'atteggiamento che il mercato avrà assunto nei mesi di luglio ed agosto quindi mi interessa soprattutto riuscire a vedere il mercato riuscire a vedere bitcoin su tenere questo livello di minimo di aprile e tenerlo nelle mese di luglio ed agosto allora da un punto di vista di struttura del nuovo trimestre c'è veramente molto movimento probabilmente se il mercato deciderà anche di prendere la via rialzista avrà difficoltà secondo me a superare questo livello cioè dei 47-48 questo livello che mi metto anche con un bel rosso fuoco ok anzi mettevo più rosso ancora ragazzi allora questo livello secondo me anche se il mercato volesse tentare una bellissima candela verde trimestrale in chiusura a settembre avrà difficoltà a superarlo poi lo vedremo invece da un punto di vista ribassista c'è tanto pericolo perché vedete che il mercato potrebbe aggiornare questi minimi in maniera molto semplice ecco perché nel mese di luglio e agosto risulta fondamentale per il mercato andare a tentare magari una fase di bassista ma sopravvivere diciamo così quindi riuscire a sostenere questo tipo di fase quindi fate attenzione soprattutto al mese di luglio e al mese di agosto concludiamo questa analisi con il grafico settimanale poi andiamo a vedere quale livello quale area più congeniale a un eventuale ingresso long by the dip per il mese di luglio sempre fermo restando che il mercato mantenga i minimi quindi vedremo anche come comportarsi in questo caso allora per quanto riguarda l'analisi della settimana c'è stato il tentativo di break della settimana scorsa per quanto riguarda dei massimi della scorsa settimana per quanto riguarda bitcoin poi è stato subito rigettato quindi il mercato è arrivato ai massimi di 36,6 e poi è stato rigettato non mi smuove questo tipo di candela questo perché ragazzi ne ho parlato ieri in un super video dell'academy dove abbiamo praticamente spulciato l'intera struttura del mese è un po' un video riassuntivo quello che vi sto facendo oggi ovviamente lì ci sono decine di informazioni in più e ne avevo già parlato che non mi aspettavo una settimana positivissima proprio dopo questa price action questa candela la candela della scorsa settimana è sicuramente una candela positiva ma non è una candela stra positiva perché il mercato ha affatto un asciato troppo pronunciata quindi difficile che con candele di questo tipo poi riparta bomba questo è proprio molto difficile però quello che sta facendo adesso invece è interessante oggi siamo a venerdì 2 luglio questa candela sarà chiusa fra 3 giorni e probabilmente il mercato tenterà di stare più o meno in questi ambiti quindi tenterà magari una discesa poi una risalita infatti farà secondo me un inside con una close di questo tipo attenzione però che se andiamo a guardare quello che è la close la linearità il mercato soprattutto con la settimana in corso potrebbe fare la chiusura settimanale più bassa dalla 17 maggio dalla settimana del 17 maggio questo è da considerare perché vuol dire che nel breve e medio periodo ancora il trend è ribassista ragazzi tanto è vero che il mercato continua a fare delle chiusure al ribasso poi è vero che fate lasciato pronunciate rimbalze quindi non sembra che il mercato stia scendendo ma il mercato sta scendendo sta scendendo pochissimo laterale però sta scendendo ragazzi lo vedete proprio in maniera palese qui perché vedete tutta la struttura di questa fase dal 17 maggio continua ad essere un ciclo ribassista se questa settimana chiude sotto la precedente conferma ulteriormente questa fase di ribasso però laterale ok? bene allora ci siamo detti tutto per quanto riguarda questa cosa andiamo a rivedere il grafico di natura mensile ci sviluppiamo quello che è l'ingresso by the dip il livello chiave per il mese di luglio secondo me è una bella operazione da seguire qualora il mercato rispetti il cosiddetto concetto di non aggiornare i minimi del mese scorso ora cosa succede? noi possiamo prendere e assumere una posizione in buy con già l'idea prestampata in testa che il mercato potrebbe andare ad aggiornare i minimi del mese di giugno e se quindi ci va contro ragazzi va chiusa in stop è molto semplice non è difficile quindi quando ragioniamo sempre io ho fatto il famosissimo video sul trading plan che trovate sul mio sito trading on in preview gratuite uno dei miei webinar del mio corso it's trading time ragazzi allora andatevelo a fare insomma tanto è gratuito potete registrarvi sono riuscito a metterlo gratuito per tutti il precedente video avevo fatto c'è stato un errore diciamo sull'impostazione e lì ragazzi io spiego come quando si struttura una strategia l'importante è avere un trading plan scritto non è importante che vinciate sempre anzi questa cosa veramente sarebbe il caso di toglierla totalmente ma è importante avere un trading plan quindi noi andremo a strutturare quella che è un'operazione in buy con l'idea già predefinita che sotto un determinato livello andiamo in stop perché il mercato ha molto rischio di andare a breccare i minimi del mese di giugno e se lo fa crolla ragazzi crolla un po' 20% quello che vuole ma crolla purtroppo perché quelli sono i livelli molto importanti sono livelli anche strategicamente molto rilevanti allora dov'è il livello che io ritengo chiave allora ve lo indica come un'area perché l'ho già detto in academy nel video di ieri è la mia area di buy va da 32 e 3 circa a questa zona qui praticamente 31 tutta quest'area nella zona del mese è un'area dove possiamo creare un buy the dip se il mercato arriva qui ci sono diversi modi di entrare in long intatto si può fare per esempio un ingresso long che abbia che sia al rimbalzo quindi aspettare magari su un time frame piccolo di avere un rimbalzo e poi entrare oppure proprio entrare in limit price con una piccolissima kick poi magari se vediamo come il mercato gira a rialzo entrare con altri livelli di ingresso per coreare la nostra posizione questo è secondo me la strategia migliore da utilizzare in questo momento per chi non fa lo short selling è chiaro per chi vuole fare solo long e per l'intero mese di luglio vedremo anche se questa strategia potrà essere profittevole in questo caso poi magari la analizzeremo nel prossimo mese quella di giugno l'avevamo già fatta con la nostra academy ragazzi ed è stata profittevole se non che però nel livello di uscita io ho fatto un'imperfezione che non mi è piaciuto ne ho parlato ieri l'academy quindi ho detto a tutti attenzione sbagliando si impara non mi è piaciuto perché sono stato ingordo nel livello di uscita di pochi punti e quindi non ho preso un take profit che era... è stato stupido non prendere ecco tutto qui ragazzi allora però molto bella anche creare questa strategia insieme vediamola un po' insieme quindi provare un buy the dip in questa zona ovviamente con pochissimo perché? perché se già andiamo a breccare quelli che sono quest'area che è intorno ai 29 più o meno il rischio di andare a crashare rompendo poi i 28 questo livello che lo definirei un punto di non ritorno è molto alto perciò ragazzi ricordatevi che se anche fate un buy the dip qui dovete aspettare che il mercato magari vi dia anche un segnale di inversione di forza prima magari di assumere una posizione un po' troppo alta quindi mi raccomando non andate a buttarvi a capofitto perché come vi sto dicendo il rischio di essere stoppati con la perdita è abbastanza importante però c'è anche un'altra cosa ragazzi quando si rischia un po' così a volte si ottiene anche tanto tanto gain perché? perché se poi il mercato rimbalza da lì e torna indietro ci fa fare un bel profit quindi il gioco vale la candela questo è un'operazione di trading puro quindi non è un'operazione di posizionamento di investimento fatela solo se sapete cosa state facendo non do consigli finanziari mi raccomando ricordatevi che è estremamente rischioso fare queste cose se non avete l'esperienza però perché no ragazzi anche con 4 soldi anche con 10 dollari 10 euro o in paper trading provatele queste cose perché vi aiutano a imparare tanto tantissimo se non siete predisposti se avete paura dell'operazione e non avete una formazione adeguata fatele in paper trading come demo per vedere come va così la seguite come una gara come si fa la gara di formula 1 va bene ragazzi allora vi ho detto tutto per oggi vi ricordo il nuovissimo fresco fresco canale telegram ragazzi iscrivetevi sul canale telegram di no telegram scusate instagram di tradingon mi imbroglio ormai con tutti questi social e niente noi per oggi è tutto ci rivediamo nel prossimo video che sudata anche oggi va bene ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.